Ecco però lei, direttore del giornale, è stato uno dei gambizzati in quel periodo, come ricorda quella terribile esperienza? Ci può dire come avvenne? Qua terribile esperienza, adesso non esageriamo, non fu così terribile, anzitutto perché era in un certo senso attesa, il giornale di cui io ero la bandiera era l'unico giornale in Italia o quasi l'unico, almeno l'unico di importanza e diffusione nazionale che avesse preso una posizione precisa contro il terrorismo. Sostenendo quello che aveva sostenuto e che sosteneva il prefetto di Milano, Mazza, non è vero che ci sia soltanto una eversione di destra, ce n'è anche una di sinistra, cioè dire la tesi degli opposti estremismi. Noi avevamo sempre difeso questa tesi, anzi eravamo stati noi a formularla, quindi che mi facessero prima o poi… Era la stessa tesi di Casalegno che Casalegno sosteneva sulla stampa? Non lo so, credo di sì, ma Casalegno forse con minor vigore di noi, Casalegno scriveva su un giornale, diciamo così, di multi opinioni, come era logico per un grande giornale come la stampa. Noi eravamo un giornale di battaglia, quindi… Quindi lei se l'aspettava insomma? Io me l'aspettavo, me l'aspettavo, non avevo voluto nessuna misura di sicurezza, mi avevano consigliato di non far sempre lo stesso itinerario e io continuavo a fare sempre lo stesso itinerario. Prima o poi mi doveva capitare, mi capitò. Come capitò? In modo proprio per raccontarla come avvenne il fatto. Ma niente, io dunque stavo allora all'hotel Manin e andavo alla sede del giornale che era in Piazza Cavur, cioè dire battevo 100-200 metri di distanza costeggiando il giardino. A un certo momento, una mattina, mentre facevo questa mia passeggiata, già sotto le finestre del giornale, mi sentii chiamare Montanelli, mi voltai e ricevetti la prima scarica. Ricevetti la prima scarica e allora c'era uno che mi sparava, un altro che controllava e che era pronta a entrare in azione se io avessi dato prova di reazione, come da principio aveva avuto istinto di fare perché io avevo la pistola. Ah sì? Eh sì, l'avevo qui, ma avrei dovuto fare un gesto e allora ero morto, come poi mi dissero loro stessi i miei attentatori. Niente, poi ebbi una seconda scarica, insomma ebbi quattro pallottole, ma come vedi le pallottole furono molto più giudiziose di coloro che me le spararono, perché come vedi sono vivo e sono ancora in piedi. Sì, però è vera la leggenda che lei ringraziò Mussolini per il fatto di essere ancora vivo e in piedi. Ma no, ma quello fu… Che cosa accadde? Che cosa… è vero questa storia? Quello fu uno dei tanti… in Italia non si può scherzare, i paradossi non si possono fare perché ci sono degli imbecilli che li pigliano subito alla lettera. Io dopo raccontai in un'intervista che in fondo dovevo la pelle a Mussolini perché Mussolini che era andato al potere quando io avevo undici anni e sotto il cui segno ero cresciuto, ci aveva insegnato a noi ragazzi che un uomo, un uomo vero deve vivere e morire in piedi. Non deve darsi per vinto, non deve cadere. Io dopo la prima scarica resistei alla tentazione di accasciarmi a terra perché mi tornò in mente d'improvviso questa frase di Mussolini. Mi aggrappai a un ferro dell'inferriata e rimasi in piedi e così ricevetti anche la seconda scarica, altri due pallotto, già due mi erano finuti addosso, ancora nelle gambe. Grazie anche forse alle sue lunghe gambe. Nelle mie lunghe gambe e quindi se mi prendevano all'addome e alla cosa ero morto indiscutibilmente perché mi sparavano da una distanza di 5 metri. Ecco, ma cosa sentì? Male? Beh, sentì il brusciore delle ferite, io già ne avevo avute in guerra, quindi ero abbastanza allenato. Ecco, ma lei riprese subito a scrivere, a lavorare? La sera stessa, no, sera stessa, detti al giornale un'intervista e il giorno dopo fece un articolo di fondo, sì, sì, sì. Quindi fu sconfisse le Brigate Rosse prima ancora che fossero sconfitte. Vabbè, insomma, non riuscirono a chiudere la tenda. Non riuscirono, infatti questo scrisse, se credono di avermi chiuso la bocca si sono sbagliati perché io continuerò. Eccomi qua. Eccomi qua.